ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a visionare un'altra bellissima edizione della cinemuseum il film del 2018 diretto da francis lawrence per l'uscita numero due per quanto riguarda la linea art sto parlando di red sparrow francis lawrence è noto per aver diretto la saga di anger games proprio con la stessa jennifer lawrence scritta da justin eight la pellicola è una trasposizione cinematografica del romanzo nome in codice diva scritto dalla ex agente della cia jason matthews perfetto ragazzi detto questo passiamo all'unboxing eccoci qua andiamo a visionare questa bellissima edizione intanto come sempre voglio mostrarvi il lenticolare veramente spaziale guardate che roba ragazzi che profondità d'immagine guardate che roba stupendo andiamo a vedere la costina con il titolo del film il logo della cinemuseum per la cinemuseum per la linea arte questa è l'uscita numero due quindi cma02 bellissimo anche l'artwork nella parte posteriore dell'edizione con la scritta in rilievo sopra il logo a tema del film e in basso viene riportata la tiratura e la numerazione quindi coppia numero 48 e l'edizione è limitata a 200 copie ok ragazzi io intanto tiriamo sulla pellicola io le tengo con la pellicola per non rovinare l'edizione pratico solo un buco che mi permetta di estrarre il materiale all'interno per poterlo visionare ok io inizierei dalla stilla bellissima stilla con jennifer lorence e il titolo del film la costina questa è la parte posteriore della stilla edizione in blu ray come avrete visto prima la stilla la lascio sigillata ok andiamo a visionare il booklet anche qui l'artwork è bellissimo e questo dietro veramente è spaziale allora andiamo visionarlo diciamo a sfogliarlo qui sempre una prefazione a cura di fabio zanello sia in inglese che in italiano e le immagini prese dal film che sono una più bella dell'altra sempre lavoro e greso della cinemuseum ma e Grazie. Guardate che robina ragazzi, guardate che bucletta. E passiamo verso la fine. Bellissimo, bellissimo. Adesso andiamo a visionare le cartoline. Stupende anche queste, una più bella dell'altra. Questa forse è la più bella. Ma anche questa, insomma. Comunque sono quattro cartoline. Però non è finita qua perché, come sempre la Cinemuseum si è abituato ad uno special gift che per questa edizione è il floppy disk. Una replica del floppy disk. Con sopra riportato il titolo del film. La linea, che è la linea art. Bellissimo regalo, veramente bellissimo. Lo posizioniamo qua. Perfetto ragazzi, io con questo ho concluso l'unboxing. Prima di salutarvi, volevo dirvi una curiosità sul film. La scena senza veli, che iniziamente aveva messo in imbarazzo Jennifer Lawrence. Successivamente l'imbarazzo però si sposta sulla troupe. Infatti la Lawrence era talmente a proprio agio, che inizia a girare nuda sul set. E addirittura pranza come mamma l'ha fatta. Perfetto ragazzi, io con questo ho concluso il video. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!